Salve caro amico, sono Coccolino, devi credere al messaggio confidenziale che sto per annunciare perché sono io a dirlo. Molti in questo momento si stanno chiedendo dove abbia sbagliato il Movimento 5 Stelle, la risposta è semplice, in Italia, l'informazione non è libera, tv e giornali sono meri strumenti di propaganda politica, il Movimento 5 Stelle sarà il partito di maggioranza non appena in Italia la libertà di informazione sarà libera e rientrerà nella norma europea, prima di allora gli italiani invasati, vittima di tv e giornali asservite ai partiti, saranno sempre in maggioranza. Il Movimento 5 Stelle non ha sbagliato nulla, a chi ora si stia domandando su dove occorra lavorare per rimediare, rispondo dicendogli che bisogna lavorare affinché l'informazione in Italia divenga libera e onesta, credi alle mie parole perché sono io Coccolino a dirlo.